Buon pomeriggio Michael Moore, buon pomeriggio e grazie per la sua intervista. Grazie a voi. Dunque, partiamo dal suo film Capitalism Love Story. Capitalismo, una storia d'amore. È già stato presentato in Italia da pochi giorni, è stato peraltro già presentato a Venezia. Volevo partire proprio da questo film che in qualche modo segna, celebra dal suo punto di vista, anche il primo anno di Obama alla presidenza. È un film un po' diverso dagli altri, mi pare meno ironico, un po' più segnato dalla nostalgia per quello che è stata l'America e da una grande tristezza. Si riconosce in questo mio giudizio? Sì, è un film triste, ecco perché c'è tanto umorismo. Il bisogno di ridere in questo momento è tanto, considerando tutto il casino che c'è, non soltanto negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo. Gli Stati Uniti hanno fatto tante cose, alcune belle. Adesso invece non facciamo granché, se non invadere paesi, fare soldi dai soldi, scommettere su Wall Street e poi speculare sulle assicurazioni. Insomma è un po' triste vedere che noi siamo capaci di fare molto di più e invece siamo diventati quello che siamo diventati. Nel film mi colpisce il fatto che lei a un certo punto fa vedere suo padre, porta suo padre a vedere quella che era la sua ex fabbrica, la GM. Ora è strano ma in Europa noi abbiamo moltissimo il senso di quello che sono stati i nostri vecchi, gente che viene dalla campagna, che ha fatto gli operai, mentre invece insomma in America noi non vediamo le stesse cose. Mi domando quante persone in America hanno la stessa sensazione sua rispetto a quello che sono stati i destini dei propri padri. No, stavo riflettendo sul fatto che lei abbia detto che tutti in Europa hanno i genitori, beh, me lo auguro. La generazione dei nostri genitori era un po' diversa da noi e il cosiddetto sogno americano adesso non esiste più per la generazione più giovane. Una generazione che sta molto peggio dei propri genitori. Sembrano esserci speranza di miglioramento, almeno a breve termine. Insomma, questo ha causato molta disperazione, molta angoscia tra molte persone. Personalmente per me è stato triste portare papà nel luogo dove ha lavorato e vedere tutto demolito. Il suo duro lavoro ha dato a noi, figli, una vita borghese dignitosa in cui non dovevamo preoccuparci di avere un tetto sopra la testa oppure di avere da mangiare sul tavolo. Insomma, adesso questo non si può dire perché se esci da questo edificio per strada e fermi la gente e gli chiedi ti senti sicuro al 100% che il lavoro che hai adesso lo avrai il prossimo anno oppure riuscirai a pagare il mutuo nei prossimi due o tre anni? Beh, non molti risponderanno certo, sì, naturalmente, all'americana. Quel vecchio pensiero se n'è andato oramai. Noi invece pensiamo in Europa che in qualche modo la nostra crisi è stata meno violenta di quella che avete sperimentato voi. Non so qual è la sua opinione. In Europa, per esempio, molti economisti dicono che siamo già alla fine della crisi, comunque l'abbiamo pagata meno. Anche lei ha questa impressione? Non so se sia finita la crisi perché noi, con i nostri comportamenti, influenziamo voi e il resto del mondo. Da noi non è finita la crisi. Credo che ce ne saranno altre che probabilmente incideranno anche su di voi. Penso che il motivo per cui l'Europa non sta attraversando il vero e proprio cataclisma che succede qui in America è perché voi avevate delle normative, dei regolamenti in vigore che in qualche modo tenevano al guinzaglio i dirigenti delle aziende. E poi avete anche delle normative, ad esempio, se usate un bancomat in un negozio e non avete i soldi nel conto corrente, e allora dalla cassa ti dicono che non puoi comprare niente. Sì. Mentre in America tu strisci la carta e se fai vedere che hai solo 10 dollari nel conto, comunque puoi comprare la cosa dal negozio, soltanto che poi la banca ti punisce e ti addepita 40 dollari per i 10 dollari che avevi speso. E fanno miliardi di dollari, le hanno fatti miliardi di dollari con queste commissioni negli ultimi anni. E' insomma un po' il selvaggio West per quanto riguarda le normative e le regolamentazioni in America. Passiamo alle sue speranze. È evidente dal suo film che la sua unica speranza è Obama, è vero? Ed è ancora viva questa sua speranza? Certo, sì. Sono ancora nel periodo di speranzosa luna di miele, una luna di miele prelungata, perché lo voglio, perché ne ho bisogno. Non è passato neanche un anno. Sì, un anno dopo appunto, ma il capitalismo che lei ha descritto è ancora perfettamente vivo, non ci sono state nuove regole emesse da Obama. Le sembra un giudizio molto pesante da parte nostra? No, no, è un giudizio corretto. Non è stata attuata neanche una normativa da quando è entrato in carica il Presidente Obama. Il Congresso non ha varato nessuna normativa per scongiurare un'altra crisi. Letteralmente non è successo niente, niente. E quindi quando dico che forse ci saranno altre crisi, non è che sto facendo qualche dichiarazione pazzesca. Penso che sia una cosa molto, molto possibile. L'industria bancaria sta spendendo tantissimi soldi in questo momento, cercando di fare in modo che il Congresso non vari nessuna regola, nessuna regola. E fino adesso ce l'hanno fatta. E non è questo forse una responsabilità di Obama? Di chi altro? Sì, il Congresso deve passare le regole e lui deve essere il leader. E penso che lui abbia preso la decisione di non subentrare con la voce grossa. e di non essere, di non imporre le sue regole. E penso che forse abbia sbagliato. Io penso che debba un pochino far sentire la sua voce in questo momento, cominciando a dire alla gente quello che deve fare, mettere in riga i democratici, altrimenti ci troveremo ancora di più nei guai. E nonostante tutto questo che lei dice, lei sembra continuare a pensare che questo è un buon primo anno. Non mi sembra affatto che questo sia un buon primo anno. No, ma sta scherzando? Questo primo anno, io non sono mai stato divorziato, ma forse questo sembra il primo anno dopo un divorzio. Cioè, c'è bisogno di un anno per riprendersi dagli ultimi otto anni. Cioè, solo per cercare di riprendere l'orientamento, di ritrovare l'orientamento. Abbiamo vissuto in un inferno con George Bush. E Obama ha ereditato tutte queste catastrofi. Non so come nessuno potrebbe subentrare e cancellare tutti i casini che ha creato Bush. Quindi questo poveraccio ha avuto meno di un anno fino adesso, per cercare di cambiare la situazione. E così come la sua elezione ha detto a noi, al mondo, che le cose sarebbero state diverse, non avremmo più invaso paesi, saremmo diventati bravi cittadini di questo pianeta. Avremmo riconosciuto il fatto che esiste un riscaldamento del pianeta. Avremmo ammesso che la Terra ha più di 6.000 anni e che Adamo e Deva non andavano a passeggio sui dinosauri. Ci sono un sacco di belle cose che sono successe in questo primo anno. Sì, ma in questo primo anno è successo anche che, per esempio, lui abbia mandato più uomini in Afghanistan. Mi scuso di insistere su questo punto, ma insomma, alla fine io credo che sia veramente necessario di avere un giudizio accurato di questo primo anno di Obama. Ha mandato più truppe e non poche, circa 35.000 uomini in più. Sì, lui è entrato in carica pensando di poter fare quello che non era riuscito a fare Bush, cioè prendendo Osama Bin Laden e i suoi collaboratori che avevano compiuto la strage del 11 settembre. Ma Obama, non essendo un militare, naturalmente non sa che non si può prendere uno sterminatore come Osama Bin Laden con 30.000, 60.000, 70.000 soldati, con i carri armati, con gli aeroplani senza piloti. C'è un modo diverso in cui si può catturare una persona così. Sicuramente quello non è il modo giusto. Naturalmente è stato costretto a prendere dei giudizi rapidamente, ha bisogno di tempo, adesso sta cercando di capire cosa fare con l'Afghanistan e spero che decida che è il momento di porre fine anche a questa guerra. Detto questo, vorrei spiegare un attimo quella che è stata la complicità dell'Italia in questo disastro. George W. Bush non sarebbe stato in grado di creare questo disastro, soprattutto l'invasione dell'Iraq, se persone come Berlusconi e Tony Blair e altri, leader europei, non avessero fatto parte della sua coalizione. Il primo ministro spagnolo dell'epoca, la Danimarca. La Danimarca? Davvero? Davvero? La Danimarca? Quello che avete fatto voi come italiani e altri paesi europei, che si sono uniti a Bush, gli avete dato legittimità, gli avete consentito di dire... Beh, non è soltanto perché... Io sono arrabbiato perché volevano ammazzare mio padre, ma anche gli italiani sono favorevoli, gli inglesi è una buona idea. Sono tutti favorevoli, quindi deve essere una buona idea. Insomma, se voi, voglio dire voi come governo italiano, non voi personalmente cittadini italiani, ma se voi non gli aveste dato questo appoggio, non credo che lui ce l'avrebbe fatta. Quindi spero che in Italia si faccia un esame di coscienza, anche in Gran Bretagna e in altri paesi europei, sul modo in cui si sia consentito a un presidente americano di cavarsela avendo compiuto un crimine assoluto. Beh, però anche lei a questo punto saprà, si sarà accorto, che le relazioni tra Obama e Berlusconi e il nostro premier non sono più buone come erano quelle con il presidente prima. Si è accorto anche lei questa stessa opinione vista da lì, dagli Stati Uniti? Sì, penso che questo sia un fatto positivo. Rimarrei su questa questione Italia, perché qui sembra esserci un po' di confusione. Alcuni dicono, alcuni osservatori dicono no, non c'è un problema tra gli Stati Uniti e l'Italia, altri dicono no, è tutto cambiato tra Stati Uniti e l'Italia. Lei, diciamo proprio lei come osservatore dell'Italia, come legge a questo punto la relazione tra Berlusconi e Obama? Obama è una persona molto intelligente ed è una persona molto arguta, molto intelligente nel... voglio dire, lui non è che entrerà nell'ufficio di Berlusconi e gli darà uno schiaffo, però chiunque abbia una logica si rende conto che il presidente Obama non considera Berlusconi come suo fratello, per così dire. E questo perché secondo lei? Perché ad esempio Berlusconi ha fatto delle battutacce sul colore di Obama, sulla bronzatura? Quando Berlusconi fa commenti del genere, beh, dimostra Obama non soltanto che Berlusconi, non che Berlusconi sia razzista, magari lo è anche, ma ricorda Obama che ha a che fare con una persona meno intelligente. E se non altro questa è la cosa positiva di Obama, cioè lui prova compassione per persone che non sono abbastanza intelligenti e che dicono stupitaggini. Comunque, al di là, diciamo, delle questioni, delle battute, io credo che ci sia una questione a questo punto anche psicologica. L'Europa e gli Stati Uniti sembrano più lontani tra loro. Lei ha la stessa impressione dall'altra parte, dove lei, dall'altra parte negli Stati Uniti? Ah, Obama interessa molto l'Europa e il nostro rapporto con l'Europa. Gli interessa moltissimo. Obama, però lui vede anche il suo ruolo come quello di cittadino del mondo. Durante la sua amministrazione, mentre con i vecchi presidenti le cose sarebbero state più eurocentriche, con Obama l'Africa riceverà il tipo di attenzione che forse riceve anche l'Europa e anche l'Asia riceverà questa attenzione e il Sud America riceverà questa attenzione ed è positivo tutto questo. Insomma, gli europei non devono pensare che a Obama non gli interessi, l'Europa quanto interessava i suoi predecessori. Anzi, questa è una cosa positiva, cioè il fatto che lui non veda il mondo come un mondo bianco che deve essere governato da bianchi europei o in Nord America da persone di origine europea. E questo è tutto positivo. C'è un altro italiano che sta cercando in maniera molto diversa in questo periodo di trovare un posto per se stesso nella storia recente degli Stati Uniti. Lei dovrebbe sapere di chi si tratta, visto che viene dal mondo, dal paese, dalla terra dell'industria dell'auto. Stiamo parlando di Sergio Marchionne che al momento dirige sia la Fiat e Chrysler. Lei lo conosce, lo sta seguendo, segue il suo lavoro? Io so soltanto quello che ho letto. Gli americani sono molto grati all'Italia per aver contribuito a salvarla e avendo mandato degli aiuti esteri tramite la Fiat agli Stati Uniti, perché la Chrysler non era in grado di funzionare come società automobilistica e quindi si è rivolta alla Fiat per cercare di salvare Detroit. E qui dove vivo io, vicino a Detroit, la gente è grata di tutto questo e le persone come me trovano tutto questo abbastanza umoristico. Cioè, voglio dire, con tutto il rispetto per la Fiat. Ne hai mai guidata una? E certo, sono italiana, come potrei evitare di guidare una Fiat? Mi dia piuttosto la sua esperienza su guidarne una di queste macchine. Allora, mi lasci essere diplomatico. Noi guidavamo le General Motors qui. Si accendono. Possono camminare per strada. Se vuoi girare a destra o a sinistra, lo fanno. Non so quanto dureranno. Però... In genere, non hai una General Motors per più di tre anni, prima che non abbia dei problemi. Allora, insomma... La vecchia Fiat aveva una reputazione diversa rispetto a quella attuale. Le macchine probabilmente sono migliori. Però... Il fatto che la Chrysler passi dall'essere posseduta dalla Mercedes ad essere posseduta dalla Fiat non è esattamente quello che noi chiameremmo un passo in alto oppure un passo laterale. Con tutto il rispetto. Ho capito. Con tutto il dovuto rispetto, come dice lei. Però, insomma, è un po' come quando il Messico mandò aiuti umanitari agli Stati Uniti per il ciclone Catrina. Giusto? Bravissima. L'ho beccata, insomma. Sì. Noi siamo stati grati al Messico per averci offerto il proprio aiuto con Catrina. Quindi grazie a Messico e grazie a Italia per averci aiutato a salvare Detroit. Ho un'altra domanda che ha a che fare con questi incroci tra Italia e Stati Uniti. Io capisco dalle sue posizioni che lei non sembra amare molto neanche il Partito Democratico americano, ma pensi lei che il Partito Democratico americano è diventato un modello per il Partito Democratico italiano. Lei sa niente di questo? Ne ha sentito parlare? Sì, e questo lo capisco perché il Partito Democratico dal 2006 è stato in grado di togliere il controllo ai repubblicani. Quindi strategicamente sono stati bravissimi. nel riuscire. Mentre capisco che se in Italia sei a sinistra è dura. È dura avere l'impressione di poter riuscire perché c'è questa forza dominante che nessuno sa bene da dove venga. Mi ricordo quando sono stato a Venezia. Era difficile trovare qualcuno che ammettesse pubblicamente di aver votato per Berlusconi. Eppure questo signore ha vinto, quindi chiaramente qualcuno deve aver votato per lui. Insomma, penso che la sinistra in Italia vorrebbe avere qualche vittoria in modo da poter davvero prendere come modello il Partito Democratico americano. Eppure lei non ama il Partito Democratico americano, l'ha detto varie volte, pensa che si dovrebbe andare verso il socialismo e così dovrebbe fare anche Obama. Il socialismo democratico probabilmente è una risposta a questa domanda. Però il Partito Democratico, il programma del Partito Democratico, le cose in cui dicono di credere in questo Paese sono in gran parte delle bellissime cose. Il problema del Partito Democratico americano è che manca il fegato, il coraggio di lottare, di lottare per le cose in cui dicono di credere. E hanno paura dei conservatori, quando i conservatori si schierano contro di loro. La mia delusione con il Partito Democratico americano è la loro mancanza di coraggio. Che poi è quello che sta succedendo esattamente adesso. Stiamo vedendo queste reazioni contro Obama, abbiamo delle manifestazioni, alcune anche molto violente. Non si capisce chi sono vecchi, nuovi conservatori. Lei chi pensa che siano? Qual è l'identità di questa opposizione ad Obama oggi? L'elezione di Obama è stato un momento storico qui in questo Paese. Considerando la nostra storia per quanto riguarda il razzismo, la schiavitù, non tanto tempo fa, mio nonno, nacque tre anni dopo la guerra civile. Mio nonno, eh? Insomma, ecco quanto non tanto tempo fa ci fu la schiavitù. E noi abbiamo convissuto, con le conseguenze triste, tristi e miserabili, di un sistema di schiavitù in vigore per tantissimi anni. I nipoti e pronipoti di queste persone hanno posizioni simili ancora nei confronti di persone che hanno un colore della pelle diverso. Molto di quello che vediamo si basa sulla razza, oppure su un senso di perdita di potere. Hanno perso, avevano il potere dai tempi di Reagan, anche quando c'era Clinton al potere. I repubblicani controllavano ancora il congresso. Quindi c'è un vero senso di perdita di potere. L'impressione è che il paese sia stato, sia passato nelle mani di personaggi come Obama o Michael Moore. Io li capisco. Il problema è che loro hanno anche le pistole in mano. E sono arrabbiati. E quando l'incontro per strada, dopo aver lottato per togliergli la pistola dalle mani, gli dico guardate, non dovete aver paura. Siamo tutti americani. Siamo tutti sulla stessa barca. Possiamo avere le nostre divergenze politiche. Ma non facciamo pazzie. Non facciamo pazzie perché questo afroamericano è alla Casa Bianca e non fa parte del vostro partito politico. Va bene, va bene lo stesso. Siamo sopravvissuti a Bush. Voi sopravviverete a Obama. Tocca un argomento un po' delicato. Quando vengo in America, e devo dire che vengo molto spesso, moltissimi miei amici, molte persone con cui mi capita di parlare, parlano privatamente della possibilità che Obama venga ucciso in un attentato. naturalmente in pubblico nessuno dice niente di queste cose, ma c'è un rischio serio. Ha ragione, nessuno ne vuole parlare. Noi sappiamo dove viviamo, sappiamo chi siamo, conosciamo la nostra storia, sappiamo qual è il problema e siamo tutti giustificatamente preoccupati. Abbiamo fiducia nel fatto che i servizi segreti e le persone che stanno lì a proteggerlo abbiano intensificato il loro lavoro. La scorsa settimana ho letto che quando Bush era presidente riceveva circa 3.000 minacce di morte all'anno su cui dovevano indagare i servizi segreti. Obama nei suoi primi 8-9 mesi di presidenza ha ricevuto 12.000 minacce. E' però una questione che va sicuramente affrontata, una domanda che va fatta. Lei fa la giornalista, quindi certo queste domande le deve fare. E deve raccontare quello che vede soprattutto da straniera qui in America. Mr. Moore, prima di salutarla ho quasi un'ultima questione, sicuramente è una domanda molto semplice. Ho sentito dire che questa potrebbe essere il suo ultimo film, è vero? È possibile? Pensavo che avesse sentito dire che questo fosse il mio miglior film, non l'ultimo film. Forse c'è stato un problema di traduzione. No, 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 a parte gli scherzi. Quello che dico alla fine del film al pubblico americano è che se non muovete le chiappe, fate qualcosa, diventate veramente attivi, io smetterò di fare tutto questo. Non posso essere solo io e poche altre persone a lottare per le cose giuste. E allora, poi, perché le cose non cambiano, a meno che non si coinvolgono milioni di persone. Questa è la mia sfida alla fine del film. Se ci si impegnerà, se la gente combatterà per la sanità universale, se riusciremo a porre fine alle guerre in cui ci troviamo, beh, allora dirò, vale la pena fare questi film, perché la gente risponde e continuerò a farli. Però, se gli americani vogliono semplicemente continuare a vivere alla vecchia maniera, senza impegnarsi politicamente per migliorare le cose, allora beh, ho altre cose da fare. Tipo andare a pescare? Tipo andare a pescare? Ma Mr. Moore, non c'è niente di più interessante che fare il giornalista o il regista? Beh, come potete vedere, non so se si riesce a vedere dietro la finestra, ma c'è un lago meraviglioso qui in Michigan. Sì, ma pescare è noioso. Ma questo è quello che voglio, io voglio la noia. È quello che voglio dire. Cioè, faccio questa cosa da vent'anni e adesso sono un po' esausto. Sono stato designato come nemico pubblico numero uno di George Bush. E adesso è arrivato il momento che sia qualcun altro che si unisca a me. Milioni di persone, non voglio dire solo poche persone, ma milioni di persone devono unirsi a me e diventare attivi. Altrimenti non è che smetto di fare film, però magari potrei fare un film d'azione, mi piacerebbe farlo, con molte esplosioni, molti inseguimenti di macchine, cose del genere. Senta, prima di chiudere questa intervista e di salutarlo, per quel che vale le volevo dire che comunque questo piccolo gruppo che lavora qui insieme a me e noi vorremmo continuare a vederlo come il pericolo pubblico numero uno. Grazie. La ringrazio delle parole, la ringrazio di tutto il sostegno che ho ricevuto dal pubblico italiano che è andato a vedere i miei film. Per me significa tanto. Grazie. Fatemi un favore, ridate una trasmissione alla RAI a Sabina, perché lei dovrebbe essere in onda tutte le settimane. Ok? Arrivederci. Va bene, Sabina ovviamente e Sabina Guzzanti. Grazie, arrivederci Mr. Moore e noi alla prossima settimana. Grazie a tutti.